comincia ad essere molto familiare tra direttore e mister, ho pensato comunque a quei momenti perché comunque sono stato per tre anni e non lo nascondo che gran parte della mia carriera la devo a lui e non solo a lui, anche al suo staff perché curava nei minimi particolari ogni movimento in campo sono contento perché mister ci mette l'anima dal lunedì al sabato, vabbè ora ho le date della serie B vive il calcio 24 ore al giorno e io l'ho incontrato quest'estate al mio paese, sono passato a salutarlo e io ho fatto subito una battuta, non mi ha risposto ma conoscendolo mi ha fatto capire che non vedeva l'ora di tornare ad Avellino nonostante comunque avesse fatto una gran carriera in questi anni di un'ora 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 di un'